Ragazzi oggi entrò dalle persone e li prenderò le cose dalle mani, vediamo come reagiscono Scusa, posso vedere? Ok, grazie Stai facendo un sondaggio? Eh? Stai facendo un sondaggio? No, no, volevo prenderle dalle sue mani Ah, ok Grazie mille Scusi, posso vedere un attimo? Sì? Ok, grazie mille No, guarda, questo l'ho preso io, se permette E va bene, però se lo prendo da lei è più bello Posso vedere una cosa? Non riguardo? No, per te Ok, grazie mille Scusi Eh, vabbè, però volevo prenderlo da lei Ah, proprio, perché? Così Posso vedere? Posso vedere? Sì? Non pregio un punto, non è? Scusi, per vedere? Granda Roma Com'è? Granda Roma Questa è, Granda Roma E grazie mille Scusi, posso vedere? No Grazie mille Posso prendere anche questo? Certo Posso vedere? Scusi, se ne ha un altro, se ne ha un altro, non ho capito il tuo Ah, no, lei prende le cose e io le prendo Ok, grazie mille Ok, grazie Si prende un'altra cosa dalle mani, glielo prendo Ok, grazie mille Ciao, ciao Sono tutti uguali Ok, grazie Ciao Posso prendere anche, sono l'uno che fanno anche questi? Sei normale o no? Lo posso, ma... Grazie mille Perché? Eh? Scusa, lasciamela qui Perché? È mia È mio Dove l'hai preso? L'ho preso dalle sue mani E perché l'hai preso dalle mie mani? Eh, perché io non mi scocimo da vedere È un'altra cosa dalle È un'altra cosa dalle È un'altra cosa dalle